E' impossibile derogare quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale e questa la posizione di ATS Pavia sul caso del medico vacante per gli ambulatori di Gambarana e Suardi. Dopo le polemiche sollevate dai sindaci dei comuni Lomellini e dal loro collega di Pieve del Cairo, l'Agenzia di tutela della salute ha chiarito le motivazioni del no alla deroga per il medico di Valle Lomellina in un comunicato. L'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità si legge nella nota vieta a un medico di medicina generale di operare in un ambulatorio posto al di fuori dell'ambito a lui assegnato. E' questa la motivazione per cui gli assistiti negli ambulatori di Gambarana e Suardi in seguito al pensionamento della dottoressa Martella dovranno andare a Lomello per prescrizioni e visite ambulatoriali. ATS chiarisce poi che è esclusa anche la possibilità di aprire nuovi studi medici in quanto l'Accordo Collettivo Nazionale dispone che un medico abbia l'obbligo di aprire un solo ambulatorio all'interno dell'ambito di riferimento. Il comunicato si chiude però con un segnale di apertura. Alla luce di tali bisogni, ATS Pavia si è attivata per una revisione degli ambiti territoriali che prende in considerazione anche l'evoluzione demografica e si rende disponibile a valutare qualunque iniziativa, consentita dalle norme vigenti, che venga incontro alle esigenze della popolazione per una migliore erogazione del servizio.